I presidenti di Coldiretti Ettore Prandini, Coldiretti Sardegna Battista Qualbu e il presidente Codacons Carlo Rienzi sono indagati dalla procura di Oristano per i reati di diffamazione, calunnia, istigazione delinquere e violenza privata. La denuncia è partita dal Consorzio per il Pecorino Romano e riguarda le dichiarazioni delle associazioni sulla vertenza del latte. L'obiettivo rimane sempre quello per cui ci stiamo battendo, una filiera trasparente con un'equa remunerazione del presto del latte ai pastori. Il commento del presidente di Coldiretti Sardegna Battista Qualbu alla notizia della querela ricevuta dal presidente del Consorzio Salvatore Palitta. Abbiamo appreso dalla stampa della denuncia e attendiamo sereni l'eventuale notifica colpevoli del fatto che il presidente e la Coldiretti hanno sempre agito in difesa dei pastori di tutta la filiera lattiero-casearia, scrive il direttivo di Coldiretti. Questa notizia invece, se davvero fosse confermata, dimostra ancora una volta che la filiera è malata verticalmente e orizzontalmente e in questo modo non ha nessuna intenzione di riformarsi e diventare veramente filiera. Come abbiamo detto anche nei giorni scorsi e rimarca Coldiretti Sardegna, le esportazioni di pecorino stanno crescendo, più 34% nel mondo, nei primi sei mesi del 2019. Le produzioni quest'anno sono sotto i 270.000 quintali, non abbiamo più neppure la scusa dei dazzi, quindi dobbiamo lavorare tutti uniti rassicurando il mercato senza perderci in sterili polemiche, rimarca l'associazione.